L'incontro è stato utile, assolutamente utile, importantissimo in primis che l'assessore abbia pubblicamente dichiarato che non vi saranno tagli dei mezzi di soccorso delle automediche in particolare, che era invece emerso come scenario completamente opposto dal documento che l'azienda WSL di Bologna aveva presentato alla conferenza territoriale sociale e sanitaria lo scorso mese, che doveva essere discusso il 3 di agosto, quindi un importante cambio di rotta rispetto a quella progettualità. E sul resto, rispetto a conversione di pronto soccorso in CAO, vediamo la strada in salita per il momento, anche per tutto quello che sta succedendo nelle trattative e nelle intese regionali. Noi come Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani non abbiamo inteso sottoscrivere quella versione, pur avendo una condivisione degli intenti e degli obiettivi finali, perché la ritenevamo ancora a cerba, cosa che in effetti si sta in qualche modo su base regionale rivelando ancora a cerba e con necessità, già dichiarate anche oggi, di rivedere, ritoccare alcuni elementi. Noi eravamo convinti che fosse necessario dall'inizio e ne siamo ancora più convinti oggi. Riteniamo che sia difficile pensare a un ospedale per acuti senza un pronto soccorso, quindi che se le dichiarazioni sono di voler mantenere vergato come ospedale per acuti, come ospedale per acuti, sotto debba esserci necessariamente all'ingresso un pronto soccorso, eventualmente anche con una fase di affiancamento, se ci dovranno essere delle evoluzioni, in cui introdurre il modello del CAO, insomma, se necessario. Noi siamo sempre però dell'idea che siano necessarie alcune modifiche, alcune modifiche degli impianti normativi, in particolare per le incompatibilità dei medici e per i modelli di organizzazione del lavoro. Oggi la popolazione medica, soprattutto quella giovane, ha delle necessità diverse da quelle che avevano i medici di 20 anni fa o di 10 anni fa. E quindi se non ci sono delle modifiche coerenti sull'organizzazione del lavoro, sulla tipologia di contratti, eccetera, l'unica alternativa, se non si usano gli strumenti pubblici, diventano le cooperative. Le cooperative non sono per noi la soluzione. Quindi l'abbiamo dimostrato col sistema 118 nell'azienda USL di Bologna, oggi abbiamo una carenza di fatto zero, per i medici di emergenza territoriale, che non sono dipendenti dell'azienda, ma sono medici convenzionati col pubblico in via diretta, come lo sono i medici di famiglia, come la continuità assistenziale, come sono tanti specialisti del distretto. Quindi un rapporto contrattuale diretto con il pubblico, ma più flessibile, più rispondente alle esigenze, soprattutto dei giovani. E questo riteniamo che sia un percorso ancora inesplorato, purtroppo nonostante le numerose richieste, che può essere parte della soluzione ai problemi della carenza. Sono Roberto Pieralli, presidente regionale Snammi Emilia Romagna e Snammi Bologna. Al 118, sono medico dell'emergenza, lavoro al 118 da Bologna da più di 10 anni.